Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come realizzare una maschera veramente horror con dei materiali molto economici, cioè del silicone acetico, quello che potete comprare per pochissimi euro al brico. Mischiato con i coloranti universali, lo possiamo pigmentare e applicare con una spatola e dei pennelli su una maschera bianca, quelle classiche che trovate ad esempio a Carnevale e ad Halloween. Aggiungo successivamente dei denti comprati su Amazon e realizzo in pochi semplici passaggi in una serata una faccia scuoiata veramente horror. Fatemi sapere cosa ne pensate e se volete vedere altri video di questo tipo. Ciao ragazzi!